Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Il sviluppatore ti guiderà, vuoi saltarlo? Ci prende in giro, stavo solo chiedendo, non ti permetto di saltare, scegli una difficoltà, incubo, inferno, caos, facciamo un nightmare, questa feature non è disponibile nella demo, la versione completa invece è lo stesso, attualmente non hanno livelli di difficoltà. Alt F4 è un gioco che fa uso anche della fisica, questa grafica è molto semplice, molto poli, ma è molto interessante perché ci prende costantemente in giro, c'è lo sviluppatore lì, ci sono degli oggetti qua, c'è il rosso e il blu di qua. Possiamo interagire con gli oggetti, possiamo anche ruotarli, vedete che se ne prendiamo in mano questa, la possiamo Z resettare e con la R ruotarla, quindi andare a piazzare le varie cose qui. Ma, vedo che la porta è già aperta, quindi voglio resettare la mappa, voglio fare, giocare proprio l'inizio inizio, vedi, mannaggia, scusate ma devo uscire e cancellare, no 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 no, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, voglio resettare tutto, perché vorrei farvelo vedere dall'inizio perché c'era già una porta aperta ed è un peccato farvelo vedere, ok adesso è chiusa, perfetto, abbiamo resettato tutti i save. Vedete, la resettiamo, giriamo e vedete che qua c'è blu e red. Onestamente non mi ricordo come si risolve, però ci guardiamo. Vedete che qua invece abbiamo delle teste, qua c'è il giallo, il bianco e il bianco, quindi presumibilmente io devo prendere questo, vedete che me la va a mettere in automatico. E andiamo completando questo piccolo puzzle a vincere una moneta, ci dà una monetina qua. Bitcoin, 1 su 8. Ora abbiamo altre cose da risolvere, come ad esempio questi sgabelli messi così, ma il gioco è molto più di questo, eh. Adesso lo resettiamo, lo mettiamo dritto, vediamo se me lo piazza. Mette questo. No, non me lo fa mettere, perché? Ok, ho completato anche questo. Qua ci prende costantemente in giro, però qua non mi ha dato niente di completato. Comunque, possiamo andare avanti e continuiamo a vedere che qui abbiamo la possibilità di mettere la musica. Ma vorrei evitare qualsiasi problema di copyright. Comunque qua abbiamo preso un altro bitcoin. Lì in fondo non mi dà bitcoin. Comunque, vabbè, qua abbiamo un riassunto dei tasti. E abbiamo anche la possibilità di andare a vedere varie cose, varie riviste. Ovviamente, abbiamo anche un libro che possiamo ruotare. Non credo, lo possiamo... sì, possiamo usare, interagire. Però vedete che non... Interagisci? No, non c'è nulla. Sotto c'è questo, che è invece quello che ci serve probabilmente. Vedete che c'è card. Quindi andiamo a mettere la card qui. Una card rossa che avevamo qua. Ups. Se la mettiamo qua abbiamo risolto il puzzle principale di questa pagina. Poi ci sono un sacco di cose. Però il gioco adesso ci mette di fronte, ci dice gira a destra, a sinistra. E invece qua siamo a... Sì, è a destra in realtà. In realtà vuole che andiamo qua. Perché qua ci spiega una meccanica di gioco. Qua abbiamo la possibilità di andare a mettere questo qui dentro. Oppure abbiamo la possibilità di andare a prendere questo e renderlo grande. E combinarlo, come avevamo già visto anche in giochi come Boneworks. Vedete che li possiamo mettere qui. E il gioco ci spiega che facendo così facendo possiamo andare a scavallare. Oh cavoli. Guardate che ho sbagliato. Scavalcare. Solo che mi sa che ho perso un pezzo in giro. Perché me ne è partito via uno prima. Non so dove è andato. Comunque magari ce la facciamo lo stesso. Sì, dovremmo farcela lo stesso. Vedete che andiamo di qua. Mannaggia. Eh sì, ne ho persa una. Potrei resettare. Perché il gioco ci dice se rimani bloccato comunque hai la possibilità di resettare il livello. Comunque scavalchiamo con molta pazienza. Diciamo che la prima run mi è andata decisamente meglio. Ok, scavalliamo. E abbiamo questo. Che cos'è? Un 3. Allora dice non fidarti. Menzogne. Non fidarti degli sviluppatori. Se incontri un bug come questo, ignoralo e continua. Se compariono bug come questo, e ci fa vedere, e prova a superarlo come parte della sfida, oppure fai ESC e poi Fix Stack o ESC Reset Map. Comunque ci prende in giro sui possibili bug. Comunque dice di non fidarsi degli sviluppatori. Noi premiamo e veniamo scaraventati nello spazio. Tutto questo l'avevo già provato. Bye bye. E qua siamo morti. Ok, praticamente questo è evoluto per prenderci costantemente in giro. Abbiamo questo Alt F4, Comeback, e ricominciamo dall'inizio. Questo è un puzzle game tutto fatto così. Vedete che qua si chiude. E intanto andiamo a vedere... Ah, ho trovato anche il pezzo mancante. Ok, che era finito lì. Lo trasformiamo qua così grande, così. E così possiamo salire in modo un pochino più agevole, senza doverci incastrare. Devo stare attento a non toccare dentro? Ok. Non premiamo più il tasto stavolta. Ma andiamo avanti e vediamo che cosa ci sottopone il gioco. Ecco, abbiamo un sacco di cose. Io sono arrivato fino a questo punto. Vedete che abbiamo anche questo. E l'ice. E c'è una chiave blu. Vedete che questo è un bug. Bug voluto, per farci vedere. Può capitare anche questo. Comunque, io adesso metto la roba di qua, perché secondo me mi serve dall'altra parte. Sì. Allora, continuiamo. Vedete che qua abbiamo delle Burger Star. No. Non possiamo interagire con questi. Però ci sono questi. Ci sono un sacco di panini. Allora, andiamo a vedere che cosa si può fare di qua. Beh, se ci hanno messo questo è probabilmente un motivo per passare gli oggetti dall'altra parte. Allora, il gioco... Non voglio adesso fare un video troppo lungo, perché sarebbe un delitto spoilerare un gioco del genere, anche se credo durerà parecchio. Vedete che abbiamo... E. Non lo so. Questo è un punto di... Ah, ci fa vedere anche come usare gli aiuti. Quindi praticamente se togliamo questo, dovrebbe essere usato quando necessario. E infatti se poi andiamo a mettere questo dentro lì, ci spiega un'altra cosa, come fare un'altra... Insomma, una... chiedere il secondo aiuto. Qua abbiamo E, Lice. E non lo so, perché qua dobbiamo premere tre tasti. Vedete che è rosso... Verde, rosso, giallo. E onestamente non so cosa voglio dire. Possiamo tornare indietro a vedere se c'è qualcosa che ci spieghi qualcosa. Vedete che abbiamo Interact, ma non c'è assolutamente nulla qua da cliccare. Don't trust. Loro mentono. Ok. Negli occhi degli alieni... Agli occhi degli alieni siamo degli outsider, degli stranieri. Quindi evita di vedere cose in un modo solo. Ok. Questo potrebbe essere un indizio, perché magari ci dice qualcosa che... Abbiamo anche questo. 300 modi di evocare un... il codice divino senza di te. Ok. Qua abbiamo qualcosa. Ah, la card blu era anche qui. Era nascosta un po' ovunque, eh. Non solo dove l'ho trovata. Quando completa il tuo primo gioco in appena 30 anni. Va bene. No, qua non mi pare ci sia nulla. Voglio dare un'altra occhiata di qua, perché vedete che dietro questo c'è l'ice. C'è anche una chiave blu. Io adesso voglio vedere con Z lo ruoto. non posso farci nulla con questo, ma non c'è neanche un'indicazione di cosa fare. Comunque io uso l'aiuto e vediamo cosa mi dice. Praticamente mi dice di là capovolgi Ah, ok. Quindi praticamente devo andare nella lavagna di là e metterlo qui. Vedete dove c'è il giallo? Credo sia qui. Vediamo. No. Mi dice di guardarlo così. Se c'erano gli sgabelli così, ma Ehm Perché? Ah, è un questo è un 3? Il giallo è un 3? Ma perché? Scusami, eh. Ma Il giallo è un 3? E va bene, ci sta. Ma scusami, che aiuto è? E va bene, a questo. Io ho trovato solo questi, però, eh. Cioè, ho trovato solo il giallo. Non capisco. Torniamo di là a vedere. Se c'è dell'altro. Per la pizza. Non ho, a dire la verità, neanche capito l'aiuto, perché... Allora, ammentono. Perché? Vedete che poi c'è una pulsante da tre tasti, tre numeri da mettere. E sappiamo che il giallo è il numero 3. Perché lo vedete così, ed è così, giusto. Adesso, questo è la stessa cosa. Perché questo lo mettiamo nella direzione giusta, ed è il 3. E va bene. Abbiamo portato di là un'altra cosa, anche questo. Ed è il 3, sempre il 3. Ok. Però, questo no. Perché abbiamo anche il blu. Ma non mi dice niente. Non ho trovato nient'altro qua, per capire quali sono i colori. Perché l'aiuto sarebbe. E va bene. E quello, ok. Però, sotto il dev... Ah, c'era un altro indizio. Ah, hai capito te. Ok, quindi. Praticamente ci sta dicendo che qua c'è... Ok, eccolo qua. Un altro indizio. E l'altro indizio è lì. Ok. Quindi... Ah, ok. Devo prendere anche la monetina. Ok, non... This game has no tutorial. Ok. Ok. Abbiamo 5, il 2 è rosso. 5, 4. Quindi 4, 5, 3. 4, 5, 3. Dovrebbe essere 4, 5, 3. Ok. Questa è una trappola. No, è un vetro. Ok. Prendo la monetina. Prendo questo. Ok, mi sta portando su. Dove dobbiamo... Possiamo chiedere anche l'aiuto. O possiamo mettere le batterie. Ah, possiamo dare il suo ancora? No, torniamo giù. Torniamo giù. Torniamo su. E non abbiamo indizi in questo caso, però... C'erano in giro le batterie, quindi... Il nome è questa. La possiamo mettere qui. Eh... La batteria... La batteria... Quasi scarica, lo mettiamo così. La batteria scarica, lo mettiamo così. E la batteria... Completamente carica... O completamente vuota. No, sembra completamente carica questa. Però, non lo so. Vediamo. Ovviamente non si apre. Quindi bisogna capire come... Forse... Così... Perché alla fine i colori sono questi. Ma ci manca un colore, secondo me. Secondo me ci manca il giallo. C'è una batteria da qualche parte sotto. Però... Perché bisogna vedere... Vedete che là la batteria è gialla. Piena. Carica. Questa è gialla carica. Adesso ho capito che cos'è. Ma non l'abbiamo. Cioè, non la possiamo neanche prendere da qui. No. E' qua intorno. E c'è una E. Che anche quello è... Potrebbe essere un indizio. Poi ovviamente io adesso non... Ho visto nelle recensioni di chi lo ha giocato. Che l'ho giocato anche diverse ore. Quindi deve essere... Magari forse cortissimo. Ma... Non lo voglio spoilerare più di tanto. Perché... Il gioco non costa... Costa niente. Perché 6,89 euro sono veramente pochi. Ed è divertente. Quindi non lo voglio spoilerare per niente. Comunque. Comunque qua... L'ultima cosa che faremo è andare... Oddio. Si può andare a tentativi. Ma voglio provare a usare l'aiuto. Voglio vedere che cosa mi dice. Che cosa mi è sfuggito. In modo da capire. Magari vedere questo gioco in modo diverso. Eh... Fin lì ci sono. Eh... Qui. Ok. Ah... Ci sono questi colori. Aspetta. Eccoli lì. Quindi arancione, blu, verde. E arancione... Eh sì, arancione e viola. Mamma mia. Ok. Mamma mia. Avrei dovuto capirlo. Eh va bene. Il gioco adesso va avanti. C'è questa serie di cose che non voglio... Allora praticamente possiamo prendere, buttare, usare, colpire. Praticamente abbiamo le armi. Andiamo un po'. Interact. Ah. Il martello elettrico. La spada. L'accetta. Ah, si colpisce così. Ok. Queste non le possiamo usare. Quindi praticamente noi possiamo prendere in mano questa... E possiamo tagliare la roba. Sì! Ma... Ma pensa a te. Questa qua è l'elettricamera. Questa è l'Excalibur. Solo il prescelto può toglierla. Questo. Questa pistola d'acqua. Questa è la Desert Beagle. E' l'elettricamera. No, io ho preso in mano quella, la laccetta del calvo con un... Ah, ehm, sì. God of War. Del pelato con un tatuaggio rosso. Ok. Rompi qualcosa e trovi e trova il modo di andare avanti o gli indizi. E qua abbiamo un altro indizio che è l'indizio di prima. E va bene. Si può tagliare tutto. Pane. Le angurie. Le banane. Le banane no. Si spargono oltre. Il formaggio lo tagliamo. Ci sta facendo usare tutte le potenzialità che ha il gioco. Taglio le mele. Oh, io ho tagliato tutto ma ho trovato niente. Cioè vuoi dire che devo esaminare tutta sta roba? Ma se io taglio ulteriormente l'anguria? O ulteriormente il pane? No, non succede niente. Perché poi è tutto qui. Non... Tutto è rompibile. Anche qua. Ok. Angurie. No, non si trovano indizi. Anche lì. È tutto rompibile. Pistola d'acqua. Vediamo un po'. Ma se io mollo... Ho mollato l'ascia. Me l'ha ributtata da qualche parte. Vabbè, l'ho persa ma abbiamo la pistola d'acqua. Sperate che la prendo. Sparo. E io sparo lì ma... Ah, ok. Si lancia anche l'ascia. Ok. Quindi io prendo l'ascia e la posso lanciare con F. Ma non è quello che devo fare. Niente, sarà da capire come si va avanti qua. Però il gioco io lo trovo assolutamente intrigante, assolutamente interessante. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Il gioco costa veramente una stupidata per quello che ha da offrire. Quindi può essere molto, molto interessante. Questo si è buggato nella parete ma lo riprendiamo. Molto bello perché poi è possibile anche fix stack se siamo bloccati. Ci fa ripartire dall'inizio. Ma anche fixare la mappa. Quindi resettare la mappa e quindi andare nuovamente tutto alla posizione iniziale. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo puzzle game. Per me è interessante. A me piacciono tantissimo questi giochi. E alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.